Ed ecco che sullo sfondo dietro appaiono i cantieri navali di Castellamare di Stazia, attualmente fin cantieri, che la partorirono nel 1931, proprio in queste acque. È un ritorno a casa, come qualcuno ha titolato, bellissimo. Tra qualche ora ci sarà l'apertura al pubblico a partire dalle 15, che potrà visitarla. Esattamente 86 anni fa, non era da sola, era affiancata da un'altra nave, Cristoforo Colombo. Questo è uno dei motivi per cui ci chiediamo, ma se è la più bella e se è dedicata al marinaio più importante italiano, perché non si chiama Cristoforo Colombo? La Cristoforo Colombo era la sua gemella, che al termine della guerra fu ceduta ai russi. I russi non sapendo la gestire, la trasformarono prima in portacarbone e poi l'abbandonarono al suo destino, pur avendo uno scafo in acciaio, tutto rivettato a vista.